ci siamo ci siamo diamo il benvenuto a tutti sul canale io sono sempre davide questo è sempre spazi attorciglietti ed oggi siamo qui per la prima di una serie di chiacchierate che spero possano essere interessanti per voi la metà di quanto lo sono per me siamo con daniele oriti un ricercatore che si occupa di gravità quantistica e che dirige un gruppo all'arnold sommerfeld center qui a monaco che per inciso è anche il posto dove bazzico io è la ragione per cui in qualche modo ci siamo incontrati daniele vuoi salutare i nostri spettatori sono indifferita però li salutiamo e io li saluto in anticipo allora bene 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 oggi siamo qui per iniziare un percorso insieme quindi questa non è l'ultima volta che ci vediamo per questo è molto importante raccogliere feedback commenti opinioni tutto quello che ci volete lasciare in modo che da darci gli strumenti per raffinare no il percorso voglio sapere vogliamo sapere cosa vogliono sapere loro esatto perché già no almeno ci diamo ci diamo un indirizzo quindi siamo qui per parlare di gravità quantistica e per farlo da diversi punti di vista inquadrando un po il la big picture e poi entrando nello specifico sui vari temi quindi se avete sentito parlare di gravità quantistica questo è il posto giusto se non ne avete sentito parlare ancora meglio giusto così e sentirete parlare anche non volendo sì e per tanto tanto tempo perché non è una questione che si risolverà nei prossimi 5 10 anni non mettere limite alla provvidenza beh tutti disoccupati poi però si farà qualcos'altro di ugualmente interessante che ne so bene allora partiamo subito in bomba oggi vogliamo affrontare la domanda grossa di solito ci si riscalda prima della prestazione sportiva ma vogliamo partire in bomba cos'è la gravità quantistica cioè qual è il problema di cui ti occupi e perché è un problema ma insomma partiamo quantomeno della definizione della domanda oggi se riusciamo a portare a casa a questo punto siamo super soddisfatti dunque si può rispondere alla domanda si può definire il problema in tanti modi diversi a secondo che uno venga da matematica fisica filosofia quale branca della fisica eccetera diciamo che il punto base su cui non c'è discussione che vogliamo una teoria migliore della gravità e dello spazio tempo migliore della realtà generale che la teoria attuale è possibilmente compatibile coerente con quello che abbiamo imparato anche dalla meccanica quantistica che il diciamo il contesto formale in cui descriviamo tutto il resto del mondo almeno a livello di fisica fondamentale questo vogliamo una teoria possibilmente quantistica della gravità che migliori completi e vada più a fondo della teoria che abbiamo attualmente cioè la realtà generale io cerco di interpretare un po quello che mi chiederei se insomma se di queste cose non avessi mai sentito parlare cos'è allora chiarisco a chi a chi ci sta guardando che in qualche modo in natura noi abbiamo individuato quattro forze quattro interazioni no se vogliamo farla proprio in soldoni super divulgativa che sono l'interazione elettromagnetica le cosiddette interazioni forti e debole e la gravità in qualche modo noi abbiamo già scritto delle teorie quantistiche adesso cercheremo di chiarire con daniele di cosa questo significhi no cioè avremo più o meno scritto delle teorie quantistiche delle prime tre e non abbiamo ancora una teoria quantistica della gravità questo il punto ma cos'è una teoria quantistica e perché la gravità non lo è che tipo di teoria è la teoria che abbiamo e cosa dovrebbe avere per essere una teoria quantistica allora cominciamo da quello che abbiamo quello che sappiamo della gravità della gravità la gravità la conosciamo tutti personalmente visto che stiamo qua seduti su una sedia o camminando tranquillamente in piedi senza volteggiare liberamente per lo spazio vuoto e quindi su quello diciamo al puntista pratico almeno riguardo la sua esistenza non c'è mistero la gravità è una forza nella descrizione più semplice quella newtoniana che abbiamo imparato a scuola e che più o meno sperimentiamo tutti i giorni è un'attrazione tra tutti i corpi dotati di una qualche forma di massa di diciamo di presenza scenica nel mondo che appunto li attrae con una forza appunto universale nel senso che sono tutti i corpi al mondo vengono attratti tramite attrazione gravitazionale e quindi questa è la parte semplice c'è una forza che agisce tra tutti i corpi ed essendo proporzionale alla massa di questi corpi un corpo grosso grosso come la terra attrae più dei corpi piccoli come i libri che ho qua accanto il computer eccetera che fortunatamente posso evitare di trattare come se mi stessero attraendo a loro in maniera diversa dall'interesse intellettuale quindi viva dio sono trascurabili quando dobbiamo risolvere la loro forza gravitazionale quella che esercivano su di me in questo momento è fortunatamente trascurabile fortunatamente non è trascurabile quella della terra e quindi appunto stiamo seduti nei piedi eccetera questa è la gravità descritta dalla teoria di newton mi riguarda scusami non solo noi anche se scendiamo nel piccolo idealmente sì sì idealmente qualunque corpo per quello si parla di gravitazione universale qualunque corpo attrae qualunque altro e anche ci sarebbe da dire stretta diciamo in termini ultra precisi a qualunque distanza tramite appunto attrazione gravitazionale tramite forza gravitazionale cioè come dicevamo appunto la forza è proporzionale alla quantità di massa quanto sono grossi e pesanti gli oggetti e diminuisce con la distanza fortunatamente sono molto attratto dalla terra perché ci sono abbastanza vicino e molto poco attratto tanto da non rendermene per niente conto dal sole, da alfa centauri, da corpi lontani anche magari più massivi della terra ma molto lontani e quindi questo ci ha permesso di descriverlo in maniera tutto sommato semplice come appunto la teoria di newton e ci siamo andati avanti per qualche centinaio di anni con quella che funzionava bene e ci piaceva anche molto e poi abbiamo deciso per ragioni sia sperimentali sia teoriche di usare una teoria migliore di sviluppare prima e poi usare una teoria migliore che è la realtà generale di Einstein se devo dire una cosa che abbiamo imparato dalla realtà generale che è quella dal mio punto di vista cruciale anche per capire perché la gravità quantistica è un problema interessante è che in realtà generale nella descrizione data dalla realtà generale della gravità invece di parlare di forza gravitazionale si parla di deformazione dello spazio e del tempo che è una cosa super astratta chiaramente che diciamo fa molto... e ti piace la cosa da voi? sì, sì, piace, fa molta impressione agli amici quando dici che lavori su quello in pratica però è un po' come dire che la presenza, semplicemente che la presenza di un corpo massivo in una certa regione dello spazio ne modifica un po' la struttura e tutti gli altri corpi che si muovono nelle vicinanze sentono, si muovono in uno spazio modificato ora, come esattamente viene modificato eccetera è meno rilevante diciamo per i nostri scopi odierni di niente equazioni altrimenti la gente scappa quindi... no, 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 ma scappo pure io finché si può evitare di mettere mano alle equazioni è meglio sono completamente d'accordo anche per chi ci lavora preferisce in genere cercare prima di discutere e capire un po' a livello intuitivo e poi, caso mai, quando proprio non se ne può fare a meno si mette mano alle equazioni la matematica va bene dicevamo, lo spazio-tempo parlavamo di relatività generale parlavo solo dello spazio inizialmente perché quello intuitivamente che riusciamo a immaginare meglio in realtà appunto come stavi dicendo anche il tempo anche la misurazione degli intervalli temporali cioè il fatto di chiedersi quanto dura l'intervallo temporale tra due fenomeni quanto tempo è passato tra due eventi di cui abbiamo esperienza dipende dalla massa abbiamo scoperto dipende dalla massa degli eventi coinvolti e dagli eventi nelle vicinanze di quelli coinvolti quindi tutte le misure di distanze spaziali distanze temporali volumi di regioni di spazio tutte queste cose dipendono dalla presenza di corpi massivi nelle vicinanze e quindi in realtà generale si descrive quello che chiamavamo gravità in Newton e che intendevamo come una forza lo si descrive invece come questa deformazione questa influenza che i corpi massivi hanno su qualunque misurazione di distanze temporali o spaziali dal che il fatto che diciamo codificato nel termine relatività che la domanda quanto tempo è passato tra la prima misurazione di un evento e un evento successivo dipende da dove ti trovi nello spazio quali altri corpi si trovano nelle vicinanze come ti stai muovendo perché la tua velocità di movimento il tuo modo di muoverti è parte del tuo contributo alla deformazione dello spazio perché diciamo ti dà una certa energia Sì, ecco qui un piccolo inciso la deformazione è dovuta a una cosa un po' più generale solo per chi ci sta ascoltando basta che ci sia una certa densità di energia anche Sì, sì, per quello parlavo di energia Anche i campi elettromagnetici Qualunque forma di qualunque oggetto fisico in pratica che possiede una certa energia anche sotto forma di quantità di moto il fatto che ci si muove è questa carica di energia diciamo che qualunque corpo qualunque oggetto fisico possiede produce una qualche deformazione del tempo e dello spazio nelle vicinanze di quel corpo e questo è il carattere come l'universalità della gravità che prima era l'universalità di questo essere soggetti alla forza gravitazionale di Newton come questa universalità si traduce nei termini più moderni della realtà generale ma la ragione per cui parlavo da generale e dicevo che è un'importante diciamo abbiamo imparato una lezione chiave è che grazie a questa traduzione in termini di deformazioni dello spazio e del tempo è successa una cosa diciamo piuttosto sconvolgente da cui non ci siamo ancora ripresi e parliamo del 1915 e nel 1915 parliamo del 1915 e non ci siamo veramente ripresi anche tra quelli che ne sono venuti a conoscenza non sto parlando di quelli insomma del grosso diciamo della società che non ha ancora assorbito la nozione ma anche quelli che almeno formalmente dovrebbero averla assorbita tipo noi secondo me tuttora non ci rendiamo conto di quello che è successo dell'impatto perché quando cominciamo a dire lo spazio e il tempo la misurazione di qualunque quantità spaziale e temporale viene deformata modificata dalla presenza di energia e corpi di materia nelle vicinanze e questa è la gravità stiamo dicendo una cosa su cui i filosofi e la gente ha dibattuto per secoli e secoli cioè stiamo dicendo che lo spazio e il tempo in sé cioè lo spazio e il tempo in quanto tali sono sistemi fisici che reagiscono si interagiscono con gli altri sistemi fisici modificano il proprio la propria natura diciamo le proprie proprietà poiché ci sono altri sistemi fisici non sono più lo spondo immobile non sono più lo schermo esatto quindi diventano essi stessi dei sistemi fisici quindi se vuoi lo spazio-tempo perché la descrizione che tendiamo a darne è un po' unificata lo spazio-tempo in sé diventa un sistema fisico che interagisce con altri sistemi fisici ha una sua dinamica ha una sua il suo set di equazioni abbiamo detto che le lasciamo fuori sì sì le lasciamo fuori ma giusto per condividere diciamo il dramma ci hanno un loro set di equazioni che sono tra l'altro anche parecchio complicate da risolvere da gestire diciamo formalmente ma appunto concettualmente abbiamo in un certo senso con questo step concettuale abbiamo creato abbiamo scoperto abbiamo incontrato una nuova entità fisica quello che prima trattavamo come uno sfondo sì come dicevi tu uno sfondo immobile su cui le cose succedono davanti a cui è la prospettiva di Newton e la prospettiva di Newton ripetiamo cioè ci sono dei corpi che si scambiano una forza che hanno una forza di attrazione fra di loro che si muovono nello spazio e evolvono nel tempo senza che lo spazio in sé e al tempo in sé cambi nulla e che senza che lo spazio in sé e il tempo in sé ci facciano caso e queste cose esistono in quanto esistono nello spazio e nel tempo esatto le cose esistono in quanto esistono e si muovono nello spazio e nel tempo ma in un certo senso indipendentemente dallo spazio e nel tempo penso che non c'è nessuna interazione di ritorno dallo spazio e nel tempo su di loro quindi veramente lo spazio e nel tempo è uno sfondo immobile e assoluto su cui le cose succedono ci siamo accorti che questo sfondo a nostra insaputa ci stava guardando e in realtà stava interagendo con noi solo che avevamo scambiato le interazioni i comportamenti di questo sfondo con una forza che agiva tra i corti in questo senso è questo di cui ci siamo resi conto che è un po' ammetterai sconvolgente per millenni siamo stati osservati in silenzio nello spazio-tempo che in realtà sì e adesso ci troviamo tra gli attori nel mondo un altro attore che è appunto nello spazio-tempo che è stato lì dalla scena numero uno ma di cui non ci siamo resi conto in realtà diciamo non peccheremmo di modestia se ricordassimo che stava la prima di noi sì giustamente quindi con tutto rispetto dovuto e stava probabilmente dopo di noi ora di nuovo non mettere limite alla provvidenza però sì per quello che ne sappiamo rimarrà lì anche quando noi non ci saremo bene e questo è sconvolgente mi dicevi che secondo te nemmeno la comunità scientifica ha davvero assorbito questo colpo ma prima di tutto la maggior parte della comunità scientifica non si occupa neanche per sbaglio di realtà generale naturalmente e di gravità tra quelli che si occupano di gravità e di realtà generale chiaramente c'è una consapevolezza molto maggiore però secondo me molti continuano in qualche modo in pratica a gestire la realtà generale come se fosse diciamo il contesto più giusto a cui ci dobbiamo abituare ma con un'intuizione che tuttora viene da ciò a cui eravamo abituati e anche dalla nostra esperienza di tutti i giorni di sicuro questo è vero tra quelli che fanno appunto fisica delle particelle anche fisica teorica molto avanzata super avanzata e complicata ma semplicemente non devono per forza confrontarsi con queste questioni diciamo con la lezione principale della verità generale e poi c'è da dire che anche tra quelli forse che si occupano di verità generale non tutti perché non ne hanno bisogno perché non gli serve hanno veramente hanno veramente riflettuto su tutte le implicazioni che questa cosa può avere tra cui io stesso non è che voglio dire che non voglio dire che ho riflettuto a tutti sì di questo come scusa? cioè il punto della questione sono le estreme conseguenze di queste cose che notiamo ok lo spazio-tempo si comporta così ma cosa significa davvero cosa implica per tutto il resto del mondo di conoscenze che abbiamo esatto cioè ci sono chiaramente mettiamola così tanto per cominciare dato che lo spazio-tempo figura quantomeno appunto come attore non protagonista in tutte le altre teorie fisiche nel momento in cui descrivi lo spazio-tempo in maniera diversa da ciò a cui siamo abituato e così radicalmente diversa a catena hai implicazioni potenziali quantomeno su tutto il resto e chiaramente anche chi lavora in relazione non è che necessariamente ha riflettuto su tutte queste possibili implicazioni potenziali per forza di cose abbiamo 24 ore al giorno altre cose da fare eccetera in più anche tra chi lavora tra i fisici su aspetti legati alla realtà generale non necessariamente le implicazioni più concettuali della realtà generale anche lasciando perdere per adesso la gravità quantistica a cui arriviamo non necessariamente queste sono state diciamo incontrate o da gente ci pensa diciamo e per far capire per dare un modo intuitivo di quantomeno realizzare perché potenzialmente sono una serie di conseguenze molto radicali e molto profonde basta pensare che lo spazio e il tempo sono in un certo senso come dire alla radice del nostro modo stesso di pensare il mondo di osservare le cose di concettualizzarle eccetera e quindi nel momento in cui ci diciamo no no lo spazio e il tempo è una natura diversa da quella che noi intuiamo a cui eravamo abituati sì in un certo senso tutto potenzialmente può cambiare sì a livello concettuale poi si tratterà di vedere cosa come le cose devono cambiare e poi di effettuare i cambiamenti necessari anche a livello concettuale in maniera seria qui entriamo nelle implicazioni filosofiche potenti del passaggio non entriamoci no no abbiamo messo il piede in prova e quando ci entri più sì no secondo me è importante far capire che non stiamo parlando di nel momento in cui discutiamo ridiscutiamo la natura dello spazio del tempo grazie a realtà generale e successivamente grazie alla gravità quantistica non stiamo soltanto occupandoci di ok un passettino in più nella comprensione del mondo fisico di qualche fenomeno specifico eccetera ha implicazioni potenzialmente molto più grandi come dicevi ha cascata su tutta la fisica e al di là della fisica e molto al di là della fisica sì questo è questo è potente questo è potente abbiamo un'altra parola no abbiamo parlato di gravità di newton e di relatività generale ma noi siamo qui per parlare di gravità quantistica e come dicevo la questione all'inizio c'è questa parolina questa parolina quantistica tra le altre è molto buffo che la gravità di newton preceda in qualche modo la nostra conoscenza dell'elettromagnetismo ma che sia l'ultima avanzata no tra quelle che dobbiamo riuscire a quantizzare la prima e l'ultima a entrare e uscire di scena cosa significa avere a che fare con una teoria quantistica e non con una teoria classica nel senso di non quantistica cosa significa e siamo lì mettiamo il piede in un altro in un'altra zona pericolosa e un'altra diciamo rivoluzione che è avvenuta nel mondo della fisica fondamentale e potenzialmente più in generale nella nostra comprensione del mondo più o meno un secolo fa appunto letteralmente in parallelo con quella della realtà generale e anche questa diciamo ad assorbirla sul serio è un ulteriore cambio radicale della nostra visione del mondo a livello fisico e a livello concettuale la parte interessante che bisogna sempre aggiungere tranne che per quanto riguarda lo spazio-tempo perché se c'è una cosa che è la che la meccanica quantistica non ha modificato almeno non in maniera particolare è la nostra concessione dello spazio-tempo così anticipiamo direttamente qual è il problema della gravità quantistica mettere assieme queste due cose dunque cosa vuol dire avere una descrizione quantistica di un sistema di un sistema fisico allora vuol dire vuol dire tante cose vuol dire che l'elenco in maniera in ordine sparso diciamo vuol dire tanto per cominciare che non a rigore non puoi attribuire a nessun sistema fisico delle proprietà determinate univocamente a prescindere dal fatto che vengono misurate o meno e in maniera come dire assoluta al massimo puoi attribuire a un sistema fisico la probabilità di avere una certa proprietà o un'altra e stiamo parlando anche delle proprietà più semplici del fatto di la posizione di una particella o la sua sto parlando di qualunque sistema fisico in astratto stiamo parlando quando parliamo di meccanica quantistica di qualunque sistema fisico poi come nel caso della reda generale ci sono ottime ragioni di dimenticarci delle proprietà quantistiche del sistema che ha per quanto ne sappiamo a livello fondamentale se per esempio il sistema è particolarmente grosso se è fatto di tanti sottosistemi piccoli in varie circostanze esatto in varie circostanze fortunatamente io e te che parliamo adesso non siamo soggetti a non siamo delle proprietà siamo abbastanza localizzati abbiamo proprietà abbastanza definite più più meno insomma facciamo il possibile siamo diciamo ci troviamo in un regime di approssimazione in cui molti degli effetti quantistici che è rigore ci caratterizzano possono essere dimenticati diciamo è anche la ragione per cui ci siamo accorti della necessità della meccanica quantistica solo nel 1900 qualcosa e non 600 anni fa o qualche migliaio perché fortunatamente nella maggior parte dei contesti in cui ci muoviamo quegli effetti sono negligibili si dice sono trascurabili comunque dicevo un aspetto dei sistemi quantistici è il fatto di avere proprietà determinabili solo in senso probabilistico stiamo parlando delle proprietà più semplici come il fatto di trovarsi in una certa posizione di muoversi a una certa velocità e qualunque altra cosa venga in mente letteralmente la meccanica quantistica è un formalismo universale descrive tutti i sistemi e tutte le loro proprietà senza fare assunzioni specifiche su come questi sistemi siano fatti senza un linguaggio senza fare esatto in generale la meccanica quantistica è un formalismo diciamo è un contesto in cui descrivere i fenomeni certo in questo senso si applica a tutto poi abbiamo teorie quantistiche o modelli quantistici di questo o quell'altro sistema fisico dal più piccolo al più grande chiaramente per quello che dicevamo prima il contesto in cui la meccanica quantistica viene utilizzata in maniera diciamo pesante cioè in maniera necessaria sono quelli più microscopici perché è un fatto che nei sistemi microscopici le loro proprietà quantistiche sono determinanti per la loro descrizione la loro comprensione non sono trascurabili esatto non sono trascurabili e diciamo ho menzionato solo diciamo la la questione più generale cioè che non puoi determinare in maniera univoca non probabilistica le proprietà dei sistemi ma ce ne sono tantissimi di aspetti di una descrizione quantistica dei sistemi fisici che sono controintuitivi rivoluzionari nel senso stretto non so se non so se il caso di entrare in questo o quell'altro aspetto della descrizione quantistica dei fenomeni probabilmente diciamo a richiesta esatto esatto guai qualcuno dovessi essere particolarmente interessato magari ne parleremo in futuro nel caso qualcuno abbia questa perversione abbiamo messo un po' di nel fuoco quindi quindi noi abbiamo questa cosa che si chiama meccanica quantistica che hai definito propriamente un formalismo per scrivere le cose abbiamo questa cosa che si chiama relatività generale cerco di tirare un po' le somme che ci dice come si comporta lo spazio-tempo accennavi al fatto che in meccanica quantistica in qualche modo lo spazio-tempo è l'unica cosa che non cambia rispetto alla fisica che avevamo prima in che senso cosa succede quando quantizziamo una cosa assumiamo lo spazio-tempo in qualche modo nel senso che continuiamo a descrivere i sistemi fisici come sistemi tra le cui proprietà determinabili sono in maniera probabilistica eccetera c'è la loro posizione nello spazio il loro modo di muoversi nello spazio la loro energia che è un modo della loro interazione con lo spazio abbiamo visto nella rete generale una determinante della loro interazione con lo spazio trattiamo di tutte queste proprietà semplicemente come se la rete generale non fosse mai avvenuta nel senso trattiamo di tutte queste proprietà come si parlava nel contesto newtoniano quindi trascurando il fatto che lo spazio il tempo e tutte le misure di spazio e tempo sono queste stesse appunto delle quantità fisiche che cambiano che sono il risultato delle interazioni tra sistemi fisici tra cui appunto lo spazio e tempo e non un dato di fatto e permettimi di aggiungere e questo lo si può fare negli acceleratori o quando facciamo fisica delle particelle nel solito modo perché gli effetti tipici della relatività generale sono in questo caso trascurabile corretto esatto esatto quindi noi abbiamo dei regimi dove utilizziamo una dei regimi dove utilizziamo l'altra e no sì fammi dire sì chiaramente la realtà generale gli effetti della realtà generale sono molto piccoli quando i corpi non sono particolarmente massivi o non portano una quantità sufficientemente grande di energia ci troviamo nella circostanza fortunata che gli effetti quantistici sono in realtà non trascurabili quando i corpi sono molto piccoli con non troppa energia eccetera eccetera non troppa massa così 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 via e quindi ci troviamo se vuoi in una circostanza abbastanza fortunata in cui possiamo descrivere il mondo e effettivamente lo descriviamo in maniera incredibile io tuttora non mi capacito però non entriamo in questo no 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 nel senso che riusciamo veramente a descrivere tutti i fenomeni a livello di fisica fondamentale o quasi tutti i fenomeni con cui abbiamo a che fare utilizzando come dicevi o le teorie quantistiche delle particelle delle forze nucleari della forza elettromagnetica eccetera quindi la descrizione quantistica di tutti questi fenomeni di tutti questi sistemi fisici oppure cambio di scena passiamo nel contesto della vita generale e descriviamo l'interazione gravitazionale come i corpi dei pianeti le onde gravitazionali tutte queste cose esatto e tante altre cose in astrofisica in cosmologia eccetera eccetera se vuoi ed è questo che è una circostanza fortunata è anche dal mio punto di vista forse una delle ragioni principali per cui diciamo no no la teoria di gravità quantistica serve perché sì perché a livello concettuale benché a livello pratico come appunto stavamo dicendo ce la caviamo riusciamo a descrivere più o meno tutto passando da un contesto a un altro da un framework da un contesto concettuale a un altro se uno prova a ragionare ok ma e si chiede vabbè ma in pratica a livello più fondamentale a voler essere più precisi a voler tirare le somme di quello che abbiamo imparato lo spazio e il tempo cosa sono e i sistemi fisici come si muovono cosa fanno e allora cerchi di tirare le fila cerchi di mettere assieme le cose e ci troviamo con due contesti concettuali prima ancora che formali che matematici e fisici totalmente incompatibili cosa significa qual è il problema perché io non ti posso dire semplicemente faccio quella cosa che faccio di solito in meccanica quantistica ma la faccio in uno spazio tempo curvo a piacere come quello della relatività generale che interagisce e tutto il resto qual è il nocciolo della questione è il nocciolo della questione è quello che dicevamo prima la la il diciamo la lezione base è quella più radicale della relatività generale non è neanche tanto che lo spazio tempo può essere deforme con tutto il rispetto spazio tempo nel senso che appunto in qualche modo è modificato dalla presenza dei compi ma è un sistema fisico questa deformazione è il risultato di un'interazione e agisce lo spazio tempo in sé in quanto sistema fisico agisce di ritorno su tutti gli altri sistemi fisici l'influenza diciamo di ritorno stiamo parlando veramente di sistemi fisici molto diversi io che mi muovo è lo spazio tempo attorno a me ma sullo stesso piano ci influenziamo a vicenda quindi non basta neanche come in realtà facciamo la maggior parte dei contesti in cosmologia in astrofisica eccetera non basta neanche dire ok ora studio come si comporta il campo elettromagnetico come ruota quella stella come ci muoviamo noi su un razzo a velocità ultra relativistica non è vero perché non riusciamo ad andare ultra relativistici però insomma è un razzo molto veloce non mettiamo limite alla provvidenza giusto di nuovo di nuovo non si sa mai abbiamo imparato che tante cose belle possono succedere comunque dicevo non basta dire ok però prendiamo seriamente la relazione della reda generale in realtà lo spazio-tempo in cui ci muoviamo è curvo questo non è prendere seriamente la reda generale lo spazio-tempo non solo è curvo ma si sta curvando col nostro muoverci la relazione continua esatto lo spazio-tempo non è semplicemente uno sfondo un po' più colorato non è solo uno sfondo un po' più interessante di come pensavamo prima non è uno sfondo praticamente banale come piatto è fermo esatto esatto è un attore dobbiamo accettare che è un attore al pari di noi e di tutti gli altri istemi fisici ma in realtà tu mi hai allontanato da quello che stavo per dire che era la cosa era la cosa divertente no no quello che voglio dire è che stavo appunto per dire che non solo come giustamente hai rimarcato a livello pratico comunque stiamo facendo un'approssimazione se trascuriamo il fatto che lo spazio-tempo interagisce con noi di ritorno e quindi è sullo stesso piano ma in realtà c'è una questione anche più di base se vuoi a livello concettuale io ho queste teorie fisiche fichissime che ci hanno insegnato un sacco di cose che usiamo per descrivere più o meno tutto e cerco di dire ok alla fine cosa ho imparato riguardo allo spazio e il tempo e cosa in generale ho imparato riguardo il mondo e beh il fatto stesso di avere due contesti fisici che ci dicono cose diverse in realtà sullo spazio-tempo e su come lo spazio-tempo interagisce con il resto dei sistemi fisici ci porta a un atteggiamento quello che io chiamo un atteggiamento fondamentalmente schizofrenico cioè sei costretto a passare con una specie di doppia personalità sei costretto come fisico-teorico a entrare in un certo quadro concettuale e lavorarci quando ti occupi di sistemi gravitazionali e a un certo punto far finta di niente di tutto trascurare quello che hai imparato e passare a tutto un altro modo di trattare il mondo e in particolare quindi trattare allo spazio-tempo siamo dissociati siamo in più di una maniera direi ma io mi riferivo a quella puramente concettuale teorica no è rischioso usare quel termine perché effettivamente diciamo non abbiamo una grandissima fama noi fisici-teorici tra la gente diciamo anche in accademia però diciamo che in questo specifico contesto si crea una specie di dissonanza psichica anche negli studenti che seguono le lezioni di relatività generale e sentono parlare dello spazio-tempo in un modo stacca caffè teoria dei campi bene assumiamo questo spazio-tempo piatto non lo si dice nemmeno lo si dà per scontato e si va avanti si dà per scontato e d'altra parte scusa non voglio ora concentrarmi solo sul spazio-tempo il fatto che in realtà generale trascuriamo tutto quello che abbiamo imparato dalla meccanica quantistica è altrettanto grave se non di più continuiamo a far finta che quando trattiamo quando descriviamo il moto dei corpi e la dinamica dei corpi e dello spazio-tempo in realtà quello che diciamo non ha nessun tipo di aspetto probabilistico i corpi sono specifiche girano intorno ai buchieri in modo specifico esatto ripeto magari parliamo in un altro momento di tutte le cose che abbiamo imparato dalla meccanica quantistica però diciamo sono altrettanto se non più rivoluzionaria di quelle della rete generale e facciamo finta di niente ci tappiamo le orecchie e facciamo finta di niente quando stiamo nella nostra classe di rete generale oddio io mi sono dimenticato era molti anni fa però lo facciamo lo facciamo assolutamente quindi cosa sto dicendo mi pare che ho risposto più o meno alla questione il punto è questa dissociazione psichica questa dissonanza io vado più avanti ancora ma e ci sono posti dove invece ci servono proprio tutte e due ah sì sì non è traspurabile né l'effetto relativistico né ci sono cose piccole 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 e tanto tanto sintetiche sì 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 certo non voglio io faccio sempre il fisico teorico no? e tu pure quindi dobbiamo quantomeno convincere chi ci dà i soldi dei finanziamenti che stiamo trattando problemi fisici che non è per curare la nostra dissonanza psichica che facciamo gravità quantistica ma perché quindi al di là della sede della dissonanza cognitiva dobbiamo motivare il tutto delle questioni più strettamente fisiche che una teoria di gravità quantistica può aiutarci a descrivere può aiutarci a capire meglio oddio sarebbe divertente provare scusate l'inciso sarebbe divertente fare un application per un grant una proposta di finanziamento in cui dice scusate io devo risolvere questa mia dissonanza cognitiva prima possibile e poi potete aiutarmi solo mi dovete aiutare con una grossa quantità di soldi che utilizzerò per assumere gente che affetta dalla stessa dissonanza cognitiva e con la stessa urgenza non sarebbe male posso provare sì possiamo provare proviamo dai dov'è che non arriviamo con le nostre due approssimazioni dove non arriviamo dunque ci sono quantomeno diciamo fammela prendere così qualunque contesto in cui contesto fisico intendo qualunque zona del mondo dell'universo in cui il campo gravitazionale sia molto forte e o in cui gli oggetti fisici portino con sé una grossa quantità di energia necessitano per una descrizione completa per una descrizione più soddisfacente sia a livello matematico sia a livello fisico di una teoria di gravità quantistica per la semplice ragione che se un oggetto porta una grossa quantità di energia con sé il modo in cui deforma lo spazio-tempo è significativo la misura in cui deforma lo spazio-tempo e quindi è soggetto a tutti i fenomeni predetti da generale è significativa non puoi trascurarla quindi se tu stai parlando anche solo di una singola particella in linea teorica una particella la più piccola che conosciamo un quark oppure una cosa addirittura senza massa come un fotone un singolo fotone o un singolo elettrone un fotone a frequenza altissima esatto un fotone con una frequenza altissima per quanto ne sappiamo cioè per quanto le teorie attuali ben ben corroborate dagli esperimenti come si dice dalle osservazioni ci dicono quel fotone sta deformando lo spazio-tempo attorno a sé in maniera significativa e quindi a rigor di teoria devi descrivere il tutto usando sia le proprietà quantistiche del fotone perché altrimenti ti perderesti tutte le sue la sua le sue diciamo tutti i suoi effetti fisici tutte le sue proprietà fisiche in realtà non saprei neanche cos'è un fotone senza la meccanica quantistica non saprei proprio definirlo ed essendo ultra energetico per quanto ne sappiamo sta deformando lo spazio-tempo e quindi devi descrivere tutti gli effetti conseguenti con la realtà generale questo non lo sappiamo fare questo è un esempio sì questo è diciamo un esempio base quindi vale per qualunque sistema sia allo stesso o per qualunque regione di spazio in cui c'è tanta energia e di conseguenza tanta gravità o tanta deformazione delle misure spaziali e temporali per rendere la cosa un po' meno astratta e un po' più appetibile nel caso non se ne siano già andati tutti non credo molto interessante ah li hai già testati adeguatamente li ho testati sono sopravvissuti delle cose terrificanti quindi se sono arrivati fin qui ci seguiranno io scusa io devo dare il colpo finale oppure come c'è il mio ruolo sì più o meno più o meno poi magari ne discutiamo dopo voglio capire bene se io sono un'ammazzata violenta finale il colpo di grazia o sono come in Boris la linea comica del canale ok vabbè dipende da come va dipende dalle domande che ci fanno dipende da come decidiamo di impostare me lo dirai dopo e nel caso io ne trarò le debite e le conseguenze dicevo per rendere un po' più concreta ci sono quantomeno due sistemi fisici due situazioni fisiche concrete benché molto esotiche diciamo in cui per quanto ne sappiamo non possiamo fare a meno di una teoria di gravità quantistica uno è una situazione unica per quanto ne sappiamo che più unica non si può cioè l'origine del mondo cioè l'origine dell'universo è una cosa abbastanza grossa in tanti sensi diversi cioè per quanto ne sappiamo al Big Bang cioè nella fase iniziale dell'evoluzione dell'universo per come lo conosciamo in realtà per come lo misuriamo per come lo osserviamo le energie coinvolte erano talmente grandi e allo stesso tempo erano talmente concentrata questa quantità di energia enorme in un'energione piccola perché tutto l'universo era in un certo senso un po' luso era piccolo che semplicemente le teorie attuali falliscono non ci sanno dire nulla di cosa è successo veramente nella fase iniziale iniziale molto breve giusto per farci capire no 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 quando dico iniziale intendo proprio l'inizio non dico solo un ultra millesimo di millesimo di millesimo di secondo dopo l'inizio intendo proprio l'inizio il play basta che passi un tempo abbastanza poco e effettivamente sappiamo dire un sacco di cose è questo che volevo chiedere solo perché poi non ci vengano a dire il big bang ma come tutta la cosmologia ma siete pazzi no 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 tutto il mio rispetto infinito per i cosmologi teorici sperimentali e anche per quelli che fanno filosofia della cosmologia ne sappiamo tantissimo purtroppo però in quanto fisico teorico che fa gravità quantistica posso sempre aggiungere e sì però l'inizio proprio non mi serve di dire cosa è successo mi servo io noi siamo quelli che alla fine di un bel discorso devono rovinare tutto dicendo esatto tecnicamente sì sì noi siamo quelli antipatici cioè noi quelli alla fine del grande seminario lezione divulgativa in cui hanno spiegato tutti i segreti dell'universo la cosmologia fatto vedere un sacco di immagini fichissime e sì però scusi eh e però proprio all'inizio inizio cosa è successo? non lo sai eh una cosa così con la faccia poi saputella perché noi in realtà ne sappiamo qualcosa è chiaro è chiaro vabbè comunque quindi quella fase là il big bang in quanto tale il cosiddetto big bang in quanto tale e a ricordi logica diciamo a essere proprio un po' più precisi ignoto misterioso e lo sarà finché non abbiamo una teoria di gravità quantistica ovviamente ci sarebbe un sacco da dire e da spiegare come la gravità quantistica può modificare le cose lo faremo in un'altra occasione se c'è interesse l'altro contesto è altrettanto estremo ma fortunatamente se vuoi è un po' diciamo come posso dire in una maniera un po' inquietante ubiquo nel senso che in qualunque galassia conosciamo per quanto ne sappiamo ci sta dentro almeno un buco nero più tutta una serie di buchi neri sparsi per l'universo in maniera più o meno isolata e per quanto ne sappiamo che come stiamo per dire non è poi così tanto al centro dentro ciascun buco nero c'è una regione di spazio perché il buco nero alla fine non è molto altro che una certa regione di spazio una regione di spazio in cui di nuovo per quanto ne sappiamo le energie coinvolte la forza di gravità e la deformazione dello spazio e del tempo sono talmente estreme che di nuovo tutte le teorie attuali crollano falliscono e serve per una descrizione più completa una teoria di gravità quantistica questo è il problema della singolarità il problema della singolarità poi è un po' cascata se vuoi nella fisica dei buco nero c'è tutta un'altra serie di questioni fisiche e confettuali che non sono direttamente o meglio sono direttamente e indirettamente collegate della singolarità all'interno del buco nero ma hanno a che vedere più in generale su cosa succede dentro un buco nero come i buchi neri si evolvono in che senso ci nascondono che abbiamo studiato negli ultimi 40 anni che sono più sorprendenti di quanto ci aspettassimo prima i buchi neri che hanno una termodinamica hanno certe proprietà insomma ma diciamo non entriamo neanche in quello perché primo se questo deve essere un teaser diventa un teaser di quelli per cui la gente neanche ci crede dice sì sì vabbè in questa serie in questa serie tv hanno messo troppa carne al fuoco e non ci si capirà niente troppi cameo attori reference esatto comincia ad assomigliare all'host nelle ultime cosa c'entra la termodinamica adesso esatto adesso non ho pure la termodinamica in ballo oppure una di quelle cose per cui dice sì sì vabbè troppa roba non voglio saperne niente mi è stata sbomballare il cervello come si dice tagliano la prima stagione non ci fanno vedere un finale esatto è un pilot episode che non porta da nessuna parte beh caro Daniele io credo che siamo qui quasi da un'ora siamo qui quasi da un'ora e io sarei assolutamente contentissimo di proseguire ma secondo me abbiamo un po' chiuso il punto che avevamo aperto no? o meglio abbiamo aperto troppi punti abbiamo aperto un botto di punti esatto però secondo me è un buon momento per fermarci e lasciare l'acquolina in bocca per l'episodio questo è la mia speranza lasciare il mio wishful thinking è lasciare un po' di acquolina in bocca per il prossimo episodio abbiamo aperto un sacco di punti che tratteremo nel futuro siamo due italiani in Germania che fanno fisica tu da un po' di anni e con un po' di esperienza io sto muovendo i miei primi passi il giusto il giusto il giusto il giusto quel tanto che basta ad avere un po' di esperienza ok ok ti sei salvato mi stavo già arrabbando mi ricordi la mia veneranda età hai molti più capelli di me il sì ma cerco di con giochi di luce qui posso cercare di fare di non evidenziare il colore dei capelli quindi secondo me per oggi noi possiamo esserci abbiamo parlato di relatività generale di meccanica quantistica di gravità di un sacco di cose e secondo me secondo me possiamo rivederci molto presto che ne dici? quando vuoi bene e allora da Spazi Attorcigliati per oggi è tutto questo è il primo episodio della nostra serie di chiacchierate sulla gravità quantistica in cui cercheremo di strizzare la conoscenza di Daniele come un asciugamano bagnato per farmi tesoro aiuto e allora io chiamo le persone che mi seguono in modo quasi patologico crononauti perché abbiamo iniziato con un video sulla relatività generale in cui parlavamo di questa soluzione di Gödel in cui ci sono i viaggi nel tempo e quindi li chiamo crononauti no? mi saluti i crononauti prima di chiudere questa questa chiacchierata eh alla prossima crononauti speriamo in tanti alla prossima crononauti alla prossima ecco